Dopo il grande successo riscosso al Cinema Politeama, torniamo indietro nel tempo venerdì sera per vivere la Fanu Kifu con filmati e storie inedite del vostro archivio. Esatto, in occasione dei 50 anni dalla fondazione del nostro studio abbiamo realizzato questo documentario strutturato su più episodi della durata complessiva di 1 ora e 40 che cerca di proporre al pubblico fanese storie, immagini e personaggi caratteristici della nostra città. La proiezione è avvenuta il 19 dicembre presso il Cinema Politeama, è stato un grande successo per noi, una serata bellissima. Purtroppo molte persone sono rimaste fuori dal cinema e quindi abbiamo pensato che potesse essere bello poter organizzare una nuova proiezione, una nuova trasmissione e grazie a voi di Fano TV possiamo proporla al pubblico. Che cosa potranno vedere nel dettaglio i telespettatori? Avremo la possibilità di vedere delle immagini e filmati per la gran parte inediti, ce ne sono alcuni veramente interessanti, avremo la possibilità anche di parlare e di ricordare il grande pittore Tom Storer attraverso la sua pittura e vedremo anche gli unici frammenti filmati che ritraggono l'importante pittore inglese. Ci sarà la possibilità anche di poter osservare i cambiamenti architettonici che la città ha subito nel corso di questi anni. Per esempio avremo la possibilità attraverso un filmato dell'archivio Luce di vedere la vecchia cinta muraria prima che venisse abbattuta per la nuova riqualificazione del Pincio. Quindi sarà come fare un viaggio nel tempo dentro la nostra amata Fano. Quindi vi aspettiamo venerdì 20 gennaio alle ore 21 per poter assistere insieme al nostro nuovo documentario.